Roncaglia tra l'altro ha fatto anche una buona prestazione, come spesso gli capita questi tipi di errori adesso oggi ci sono costati il gol, ma vi assicuro che in diverse altre partite sono stati molto simili e questa è una cosa che sinceramente mi ha un po' stufato perché non esiste veramente da quella situazione un difensore, deve essere molto semplice, non è quello che lo qualifica, lui ha delle doti veramente importanti, non riuscire a togliergli questa attenzione in queste situazioni di gioco che si ripetono la prima volta che succedono mi sembra veramente impossibile. Ci ha già parlato? Ci parlerà? Questo costerà il posto da titolare a Roncaglia? Non lo so, vedremo, questa è una cosa che ripeto è già successa diverse altre volte e che quindi la deve smettere perché non è quello che qualifica il difensore, è peccato in un contesto di una prestazione veramente importante, è un giocatore molto affidabile, molto veloce, molto forte, se cade ripetutamente in questo tipo di disattenzione è da fastidio.